Il Padolecchia Il Padolecchia Il Padolecchia segna. La timina reazione degli ospiti c'è solo al 36esimo con Altobelli ma stavolta De Julis si riscatta e blocca in due tempi. Nel finale poi c'è gloria anche per il neo entrato d'Agostino che segna dopo il cross di Barroso e una prima battuta di Pepe. Partita senza storia Rocca Scalegna che torna alla vittoria con un tennistico 6 a 2. Il direttore tecnico Guerrini del Rocca Scalegna, avete cancellato la debacle con l'Orsogna, il 2 a 1 con questa solante vittoria 6 a 2? Sì infatti oggi c'è stata una bella risposta della squadra. C'è stato il primo arresto domenica scorsa e la paura era proprio questo psicologicamente se la squadra reagiva. Infatti la squadra ha reagito molto bene il risultato è stato risultato tondo anche se al San Vito avevo delle diverse assenze però la squadra ha giocato bene, su un campo non al meglio però si è visto anche sprazzi di buon gioco e ripeto l'importante era tornare in corsa, tornare a vincere per continuare la corsa verso un risultato finale che ci possa portare in alto. Per quanto riguarda il San Vito è una squadra molto giovane, hanno fatto la sua parte però ripeto avevano delle assenze, c'è stato un buon divario però vabbè, noi continuiamo la nostra corsa in vetta sperando di reggere fino alla fine del campionato. Volevo solo ringraziare e dare gli auguri delle buone feste all'emittente qua e tutti gli sportivi in ascolto. Grazie. San Salvo avvertito dunque? Sì no, San Salvo è sempre un'ottima squadra, noi l'abbiamo già affrontata, là è finita con un pareggio giusto, ce la giochiamo con lui, ci sono anche altre squadre però fino alla fine cercheremo di stare in vetta. Tecnico del San Vito, Cassano, come mai questa battuta d'arresto così sonante? Ma non dico che ci aspettavamo però insomma siamo venuti qui abbastanza rimaneggiati già con parecchi squalificati e con qualche infortunato, non dico la goleata però insomma era dura, era molto dura, sicuramente la Rocca Scalegna è una bella squadra che è punto a vincere quindi noi sicuramente siamo venuti qua, non dico per vincere insomma per ottenere almeno un risultato però effettivamente in campo i due valori si sono effettivamente si sono evidenziati quindi loro effettivamente una squadra molto quadrata, gente esperta, gente tecnicamente buona, noi eravamo pieni di giovani quindi oltre di questo secondo me forse qualche gol in meno potevamo subire però insomma l'esperienza era quella che era.